Il 5 di maggio è l'ultima iniziativa dell'Ions Club per Sayone, che cosa succederà? Il 5 facciamo un festival di artisti in strada, oltre 100 artisti di tipologie molto differenti tra di loro, ci sono scuole di danza, dalla danza classica alla moderna, dalla caraibico latinoamericana all'hip hop per esempio, ci sarà tantissima musica, ci sono artisti circensi che faranno giocoleria, equilibrismo ed acrobazia, ci sarà la danza aerea, ci saranno attori che recitano, ci saranno illusionisti che giocheranno con il pubblico, quindi tante cose in 4 postazioni diverse in contemporanea, di cui 3 qui lungo via Vittorio Veneto, che sarà chiusa dal punto dove siamo noi, all'angolo con via Rismondo, fino all'angolo con via Piave. L'altra, l'ultima postazione, sarà in mezzo ai giardini di Campo di Marte, dove ci saranno 4 band musicali che si esibiranno. Tutto questo in maniera totalmente e assolutamente gratuita, voluta dalla Lions Club Arezzo e Chimera, come ultima di una serie di iniziative volte a far rifrequentare dagli aretini il quartiere di Saione, che a nostro avviso, ma a leggere giornali non solo a nostro avviso, rischia un po' la marginalità rispetto al vivere della città di Arezzo. Come vediamo, gente ce n'è tanta ora che passeggia tranquillamente, però ci sono delle strade un po' più marginali, dove si nascondono meglio probabilmente, succedono questi fatti. È vero che ogni volta, per fortuna, li hanno quasi sempre beccati, però magari se non ci fosse il fatto sarebbe ancora meglio. Qui c'è una problematica che la sicurezza è data dalle forze dell'ordine e le forze dell'ordine in questo luogo dovrebbero essere un pochino più presenti.